Presidente Vendola, il decreto lavoro, il Jobs Act e legge dello Stato creerà più lavoro in Italia? Questa è una favola che da vent'anni viene raccontata, che con la flessibilità si schiudono le porte del mercato del lavoro ai giovani. Dopo vent'anni di flessibilità abbiamo il record storico della disoccupazione giovanile. Il disegno del ministro Poletti in qualche maniera realizza i sogni del ministro Sacconi. Siamo al compimento di un progetto di integrale precarizzazione del mercato del lavoro. Da oggi l'Italia smette di essere una repubblica democratica fondata sul lavoro e fondata sulla precarietà. La precarietà fa male. Fa male perché ferisce la dignità delle persone, perché rompe l'idea che il lavoro sia uno strumento di libertà e di indipendenza e perché generalizza il lavoro povero e sporco. La precarietà fa male anche all'economia. Per questo non soltanto ci siamo battuti come leoni in Parlamento contro un atto che consideriamo di regresso sociale e culturale, ma continueremo a batterci perché chiederemo in tutti i modi, in tutte le forme possibili, lecite, di stracciare quella che non è una riforma, ma è una controriforma. Le riforme sono riforme quando migliorano le condizioni di vita delle persone. Una legge che peggiora drasticamente le condizioni di vita delle persone si chiama controriforma.